Tantissimi ragazzi e ragazze della città, giovanissimi, mi hanno spiegato che non riescono a trovare l'ombrellone quest'estate per andare al mare. Domani solleciteremo con una lettera a tutti i bagnini della città a lasciare un po' di spazio ai giovanissimi, perché è davvero spiacevole che non gli lasciino un po' di spazio in quest'estate che speriamo possa essere un'estate di rinascita e da quale i giovani possano ritrovare anche la voglia di stare insieme, ovviamente sempre rispettando le regole. E oltre a questo però voglio dirvi ragazzi che anche quest'anno allestiremo dei servizi nella spiaggia libera. Avremo tre piazzole sottomonte nelle quali ci sarà un ambulante per vendere cibo e bevande, ci sarà la doccia gratuita, ci saranno i bagni e ci sarà un deposito nel quale potrete lasciare l'ombrellone senza portarlo avanti e indietro ogni giorno e al tempo stesso se vorrete potrete affittare dei lettini. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ieri sulle sue pagine social ha comunicato la sua intenzione di scrivere una lettera ai bagnini per chiedere di riservare degli ombrelloni anche alle comitive dei più giovani. Ha stretto giro la replica di alcuni gestori degli stabilimenti balneari di Pesaro che hanno sottolineato le motivazioni per cui quest'anno non potranno accontentare tutti e dunque nemmeno i giovanissimi. Noi dispiace perché capisco questi ragazzi dopo un inverno così lungo però purtroppo le distanze che dobbiamo mantenere quest'anno sono come quelle dell'anno scorso quindi già molti ombrelloni avanzano sui 50-60 ombrelloni di Mino. Quest'anno c'è anche un po' l'erosione, il ripascimento lo fanno sempre più tardi, quest'anno ci hanno detto che ce lo fanno di più però comunque gli alberghi all'anno scorso molti sono stati chiusi, quest'anno riaprono tutti perché hanno visto che è rimasto aperto e ha lavorato quindi qui è un problema perché comunque stiamo mandando via non solo compagnie ma anche clienti nuovi stagionali pesaresi perché purtroppo bisogna lasciare un determinato numero di ombrelloni per gli alberghi. Il problema non è che noi non li vogliamo, il fatto è che con la diminuzione degli ombrelloni in base alle regole covid e alle misure non riusciamo ad accontentare tutti, bisogna tenere posto per gli alberghi, posto per gli stagionali, posto per le compagnie e purtroppo non basta. Gli spazi bisogna regolarli bene, quattro persone per ombrellone e quindi anche 12 ragazzi portano ad avere tre ombrelloni e non più magari due o uno come un vecchio tempo. A sostenere i bagnini anche il presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Liva. Il nostro turismo estivo al 90% è turismo climatico, se non c'è ombrellone non c'è turista e siccome non stiamo attraversando un momento molto felice, anzi direi molto brutto perché le pronotazioni purtroppo non arrivano, arrivano molte richieste di informazioni ma finché non c'è caparra la pronotazione non è confermata. Per cui direi che innanzitutto la spiaggia non è un problema dei bagnini ma la spiaggia degli operatori di spiaggia, ma è un problema della città perché la spiaggia è una risorsa per la città e quindi bisogna magari pensare di più e più a lungo al mantenimento della spiaggia e di fare un ripascimento diciamo un po' più pesante in modo che recuperiamo qualche fila di ombrelloni. Questo non è stato fatto in passato, quando i colori delle due giunte concidevano penso che sarà più difficile però credo che gli steccati politici di fronte alla crisi vadano abbattuti. Grazie